Buonasera, le notizie che posso darvi oggi sono finalmente positive. In questa settimana c'è stata una riduzione costante dei contagi da coronavirus e così anche dei decessi. L'immagine della chiesa del cimitero, per settimane occupata dalle bari di tanti nostri con cittadini e oggi finalmente vuota, è forse quella che maggiormente ci dà l'idea di aver superato la fase più difficile e di poter continuare a sperare. Nei nostri ospedali la situazione è tornata quasi alla normalità, grazie anche al contributo dell'ospedale da campo che nel frattempo funziona sempre di più, mentre sono 4 gli alberghi che ospitano i pazienti in via di guarigione che però ancora non possono tornare nelle loro famiglie. In merito di questo miglioramento, ci tengo a dirlo, è in gran parte a vostro, di voi cittadini che avete sopportato di restare a casa in queste settimane, di rinunciare al vostro lavoro, se siete studenti di non andare a scuola, sacrificandovi spesso in appartamenti poco spaziosi e molto spesso rimanendo anche in solitudine. Quando siete usciti avete rispettato le regole, tenendo le distanze dagli altri, usando la mascherina a difesa della vostra salute e di quella delle altre persone. Grazie quindi, avevamo detto che facendo così saremmo riusciti a frenare il virus ed è quello che effettivamente è accaduto, anche se piangiamo la scomparsa di centinaia di nostri cari, pensate più di 600 soltanto tra i residenti della città dal primo di marzo al giorno di Pasqua, una ferita che ci porteremo appresso per tanto tempo. Siamo riusciti a frenare il virus ma questo non significa che il virus sia scomparso purtroppo. Quindi le regole che abbiamo imparato a rispettare in queste settimane, comprese lavarsi spesso le mani e igienizzare gli ambienti di casa, dovremo continuare a seguirle anche nei prossimi mesi e così ad usare le mascherine, perché finché non ci sarà un vaccino che elimini definitivamente questo nemico dovremo essere sempre molto attenti e prudenti. Ma ovviamente non potremo restare troppo a lungo senza lavorare. Per questo, avrete sentito, si parla con insistenza della cosiddetta fase 2, cioè di una ripresa, di una ripartenza, che non sappiamo però ancora quando esattamente inizierà, si dice dal 4 di maggio, e che io mi auguro sia gestita in ogni caso in modo graduale e con molta prudenza. Per saperne di più dovremo avere ancora un po' di pazienza, però qualche giorno, ed aspettare le decisioni del governo e della regione Lombardia. Avrete poi letto o sentito alla televisione dei nuovi test degli anticorpi. Sono basati su un piccolo prelievo di sangue e verranno sperimentati proprio a partire dalla prossima settimana. È presto per parlarne, però insomma ci sono speranze che possano essere strumenti molto utili per accompagnare in sicurezza la ripresa delle attività, soprattutto per chi deve tornare al lavoro. Le decisioni sono innanzitutto in capo a regione Lombardia e io comunque vi terrò informati. E per finire voglio parlarvi di un'applicazione, o meglio di una web app, così si chiama, che non va scaricata, ma cui si accede direttamente dal telefonino, dello smartphone o dal computer all'indirizzo che è oggicomestai.it. Oggi comestai è scritto tutto di fila. E già 45 mila bergamaschi la stanno usando. L'abbiamo sviluppata insieme all'ATS, cioè l'Agenzia per la tutela della salute, ed è destinata ai cittadini di tutta la provincia. Serve a difendere la vostra salute, cercando di monitorare l'andamento dell'epidemia e di prevenire una ripresa dei contagi. Vi spiego come funziona. Per uscire dalla emergenza coronavirus abbiamo bisogno di conoscere e di condividere innanzitutto il nostro stato di salute. Come stiamo? Se stiamo bene? Se abbiamo dei sintomi? Se li abbiamo avuti? Se sono passati? Oggi comestai.it consente proprio ai cittadini di fornire queste informazioni, di aggiornarle tutti i giorni e di mandarle in forma protetta alle autorità sanitarie. Non solo, permette anche di farlo per i propri cari, soprattutto per quelli che non hanno dimestichezza con la tecnologia e non possiedono un telefonino o il computer o non hanno una connessione internet. Oggi comestai è uno strumento pensato quindi per proteggere la nostra comunità. E vi garantisco che registrarvi è molto facile, bastano pochi minuti e ancora meno serve nei giorni successivi per aggiornare le informazioni. Grazie sindora e buona serata. A presto.